noi già siamo pronte vero gildare ma vede che c'è qui sedano carota cipolla olio che famo 600 grammi di carne macinata di vitella ci ho messo un po di pepe e adesso ci metto un po di sale allora devo fare un bel sughetto perché faccio una pasta particolare faccio vedere che sta e adesso faccio delle piccole polpettine va bene di pazienza vai guardate quante polpettine che ha fatto la sola gildarella furbacchiona vado a mettere la carne macinata dentro al tegame ecco qua un po di macinato io l'ho lasciato perché mi serviva i polpettine vanno bene così che profumino che c'è sta qua che volevo dire guardate gildarella ecco adesso mettiamo un bel bicchiere di vino e fanno sfumato mamma mia gildare e adesso metto questi sono 250 grammi di piselli surgelati ok ecco 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 adesso faccio cuocere metto il coperchio e noretta 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 noret polpettine su che basilico che volevo dire dai che va a girare guardate che sughetto che è venuto allora girare ecco qua allora le polpettine fatte poi qui ci abbiamo parmigiano mozzarella le melanzane che le ho fritte e poi l'ho fatta e scola bene bene allora le polpettine l'ho fritta adesso ci ho messo un po di pomodoro dentro e poi andiamo a mettere qua allora questi qua questa è la pasta si chiamano i candeloni allora questi sono lunghi lunghi così e io l'ho spezzati tipo le zite ecco qua poi l'ho lessata l'ho scolata e adesso faccio tutta la preparazione qua con questo bel sugo mamma mia che spettacolo le melanzane fritte poi le fatte scolare bene bene un po di polpettine vedete ecco qua che meraviglia questo è un sughetto favoloso eh ecco qui guardate questa è becciamella che io adesso ci ho messo un po di sugo ecco qua questa è una confezione di quelle piccole andiamo a vedere qua vai mamma ecco queste sono da paradiso buone gildare adesso buone davvero uno spettacolo adesso mettiamo parmigiano mozzarella che vi viene fuori eccolo qua e poi mettiamo qualche melanzana pezzo forte queste vanno sotto eh che va tutto mischiato una coloria ecco qua questo è dalle cavie baffi proprio eh altre polpettine e questo è il primo e il secondo eh la volta che vi siete magnati una bella porzione abbondante se non bis è un secondo questo da un po ma sì c'è tutto ecco questo è il piatto questo quando ero ragazzina la domenica era questo era di rito e si mangiava primo e secondo capito e allora da che piattino sugo ce ne vuole eh ecco questa ecco fatta goduriosa i bei pisellini altro giro di mozzarella certo vedete vediamo che si gildare e altro giro di parmigiano questa deve essere carica adesso la vado a infornare il forno sta a 180 e la faccio sta diciamo una mezz'oretta che prende bene va bene a 180 eh ragazzi va bene andiamo ad infornare adesso io la vado a infornare vai gildare otta gildare otta troppo guardate che meraviglia dai faccio vedere gildare su allora guardate che profumo che c'è sta ti faccio vedere ecco qua guardate che roba vai vai come pela come pela che spettacolo ecco qua vedete che meraviglia e adesso questo è un piatto eccezionale è buonissimo vai metti sughetto ecco qua tutto filante vedete guardate che bello spettacolari bello e buono ecco qua guardate che meraviglia attenta che scotta gildare appena appena dai buoni poi guardate tutto quel sughettino la le polpettine questo è è un piatto veramente eccellente guardate la melanzanina le polpettine che goduria gildare che volevamo continuare a mangiare oppure facciamo due salutini gildare la spera magica vai gildare allora siete pronti dai 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 vai cominciamo allora metteremo le mani te credo ti emozioni sempre allora Ada la mendola dalla Puglia brindisi ciao Ada ciao poi celeste Lalla da Roma ciao Lalla bacio poi altro celeste Roberta Zerpini da Ostia ciao Roberta poi chi c'è verde 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 andiamo a sbirciare Anna Bisso dalla Francia ciao Anna bacio allora Marilena Pignatelli da Taranto ciao Marilena un bacio dai Gildarena un altro e poi un bacio a tutti vai vediamo chi c'è Teresa di Mezzo da Roma ciao Teresa bacio e adesso tanti baci belli guardatela che con la mano dai uno solo su 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 dai chi c'è Nicoletta Occhedu dalla Sardegna ciao Nicoletta bacio adesso un bacio a tutti baci belli dalla cucina di Gilda guardate qua l'attrezzi che c'ho e fatela eh mi raccomando fatela che è buonissima fatela che questa è una pasta da paura proprio è proprio favolosa eh guardate che meraviglia eccolo qua che famo Gildare una mamma gna sì e dai ciao belli dal cuore sempre ciao ciao